Sarà ospitato dal complesso di Santa Maria della Scala a Siena l'evento conclusivo dell'anno del cibo italiano in Toscana il prossimo 3 dicembre. L'assessore regionale al turismo Stefano Cioffo ha presentato nella sede della presidenza della regione toscana a Firenze l'evento dedicato al legame tra cibo, arte, cultura e turismo, organizzato da Vetrina Toscana con il coinvolgimento degli assessorati regionali al turismo e all'agricoltura. Evento clou l'Alexio Magistralis dello storico dell'arte Filippo D'Averio sull'arte del gusto e del vivere in Toscana. L'anno del cibo ha caratterizzato l'immagine della Toscana, del paese intero, su indicazione del ministero ed è stato un modo diverso per raccontare le nostre eccellenze. Lo facciamo questa volta con un evento conclusivo, facendo sintesi del lavoro svolto, mettendo insieme la narrazione che abbiamo costruito, quella del cibo che in Toscana rappresenta un momento di contagio della cultura, delle tradizioni. Buon cibo, arte e territorio, ma anche gli esempi virtuosi di comunicazione delle eccellenze enogastronomiche al centro dell'evento senese, che vedrà anche la Toscana confrontarsi con Sicilia e Piemonte.